24 luglio 2012 questa è la situazione all'imper self agip con il famoso ripartiamo meno 20 centesimi ogni giorno sabato domenica c'è la stessa situazione come potete ben vedere ci fermiamo qui non andiamo oltre perché abbiamo già capito tutto senza ulteriori parole ecco che cosa succede e perché non ci sono soldi in italia questo dimostra che non ci sono soldi in italia sabato e domenica non è l'operaggio che va a fare il piede ma tutti perché devono fare andare a fare il bel giro avanti e dietro e questa è la situazione che si è creata questo è l'unico iper self della zona ed è sempre così da sabato a mezzogiorno bisogna venire la mattina alle 5 o la sera a mezzanotte grazie alle prossime grazie a tutti